Ciao a tutti! Oggi video estrazione del giveaway dei famosi cerottini Wonder Streets. Ce l'abbiamo fatta, è arrivato finalmente il video. Perché ci ho messo così tanto? Perché ho preso una decisione, ho visto tutti i commenti che ho ricevuto sotto quel video e ho calcolato che secondo me potevo fare questo regalo, insomma questo piccolo pensiero a tutte le ragazze che hanno commentato. Quindi io adesso vi dico i nomi, vi ripeto, i nomi delle ragazze che mi hanno commentato per favore contattatemi sulla mia pagina Facebook e qui sotto nell'info box trovate tutti i riferimenti perché ho deciso così, ho deciso di premiare tutte le ragazze che hanno commentato. Sono veramente poche. Sono Beatrice Maurizzi, Valentina Monaco, poi Andrè ea Tofan, Alessia Leluzzi, star cinema. Quindi spero sì di non aver dimenticato nessuno. Quindi lasciatemi un commento sotto questo video e fatemi sapere appunto se siete interessate perché mi sto organizzando nel spedire praticamente questi cerotti a casa di ognuno di voi in pratica e ovviamente mandatemi un messaggio con il vostro recapito e il vostro indirizzo sulla mia pagina Facebook. Quindi ripeto, qui sotto nell'info box trovate tutto. Ovviamente se avete domande, non lo so, qualsiasi cosa, non ci sono problemi, possiamo sentirci anche qui sotto nel canale. Io spero che questa mia iniziativa vi sia piaciuta, insomma ho pensato che posso spedirlo con una busta perché appunto sono andata a informarmi di quanto pesassero. Quindi in realtà non devo fare proprio una spedizione con un pacco, è talmente sottile, che può arrivare a casa come una semplicissima lettera e ho detto perché no, insomma, sono state così tanto carine e mi fa piacere poter fare questo regalo. Non è una spesata così elevata, insomma, ci fossero stati 100 commenti mi sarei trovata in difficoltà. Però le ragazze sono 5 e ho pensato appunto di regalarveli. E nulla, quindi estrazione fatta per dire che voi avete vinto tutte, complimenti! E aspetto i vostri indirizzi! Ciao al prossimo video!